si aggiungono 20 grammi di alga spirulina si aggiungono 20 grammi di alga spirulina si aggiungono 20 grammi di alga spirulina Siamo in estrazione dell'alga spirulina, gelato proteico e vitaminico, una novità del momento. Signori, l'alga spirulina. Grazie. Parigato zenzero. Parigato. 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 Grazie. Ecco qua, il gelato alla fiorina è pronto. Due caratteristiche di un buon gelato naturale, digeribile e con materie di alta qualità. Io sono un consulente e loro sono i miei clienti e io sono fatto direttamente da pronte. L'ulgina dovrà diventare il mio cliente. Andiamo a provare un po'.